Bene, allora, terzo tempo, una partita fra due squadre sconosciute, che squadra avete trovato? Bravi? Un bel ritorno in Palacentro, tutto tranquillo? Mi è piaciuta? Comunque, un sostanziale equilibrio però, cioè i neri... Allora, a chi domandiamo l'ambiente? Comunque la squadra avversaria, non l'aspettavate così? Per il colore? No, quindi ecco, per le prossime... Bella squadra! Senti, che ambiente avete trovato? Tutto per sé, potrei dire, eh? Bene, questo va bene, per accendere il riscaldamento dietro la panchina... La randizionata che c'ho da tu! Eh, sì, è troppa! Grande di... Non può bene! Allora, senti Diego, sei un esperto, dai! La squadra avversaria è come... No, una bella squadra, davvero! Eh? Sì, sì! Vi siete divertiti, comunque una partita abbastanza giocata molto bene! Per te è un debutto oggi? No, ho già giocato, però ho preso con te nel tuo amperato, ho preso due mesi di squadra, mi ha fatto più giochi! Bolo! Mi ha messo ballo! Senti, se ti comporti come oggi, nulla oltre! Allora, ragazzi, comunque vi siete divertiti, l'ambiente è tranquillo, quello che conta! Claudio, che squadra abbiamo conquistato? Eh, sono una bella squadra! Eh? Sì, sì! Comportamento? Perfetto! Perfetto, questo fa piacere! Mi fa piacere i complimenti di benvenuto, possiamo dire! Grazie! Eh? Grazie! Allora, eh, de no, ma vorrei vedere! Una bella partita, insomma! Sì, è battuta finale! Ti portate poi! Comunque, avete sentito l'accoglienza? Sì, sì! Eh? Però non ci vengo più oggi! Ora ci portate a cena, vero? Sì, vero! No, cena dopo, cena dopo! Hassan! Se va a cena fuori tutti, vai! Tutti insieme! Dai, grande Hassan! Grande, bravo!